La chimica fra loro due ha generato la possibilità di raccontare quello che non era scritto, cioè la storia d'amore. Allora, partendo dal presupposto che abbiamo capito che Tisana e Kinoe saranno la nostra distruzione, quindi secondo voi invece, partendo appunto dal film che avete fatto, quale potrebbe essere invece la chiave della salvezza un po' in quanto persone, ecco, diciamo così, perché credo che in quest'ultimo periodo abbiamo un po' dimenticato anche il senso dell'empatia, dei sentimenti, dell'essere essere umani. In parte l'hai detto tu, credo che la chiave sia la tenerezza che nasce dalla comprensione della fallibilità dell'altro, cioè se tu accetti che l'altro non può essere perfetto, non può colmare le tue lacune solo perché ti fa comodo pensarlo, allora puoi rispettare anche quelle cose che ti danno più fastidio e accettare chi è diverso da te e quindi essere più tollerante. E la tolleranza alla fine ti può portare alla tenerezza e quindi la tenerezza evita di creare troppi conflitti. Sì, bisogna combattere questo analfabetismo emotivo in qualche maniera, giusto? Ti è piaciuta? La gentilezza, la cura, la cura per tutto, per le relazioni, per l'ambiente, per tutto ciò che ti sta intorno e dentro di te anche, quindi la tenerezza anche verso se stessi, perdonarsi per ciò che non si riesce a fare come si vorrebbe o come ci si aspetta dal di fuori. Sì, anche l'idea forse, scusa, di non dover essere per forza, di non dover per forza assolvere tutto quello che la società ti chiede, no? Che ti chiede anche appunto in termini di ruoli, ci si lascia così, ci si mette insieme così, eccetera, eccetera. Invece avere rispetto di chi si è e scoprirlo, avendo, diciamo, ben in mente... Cosa non facile. Ovviamente non è facile, insomma. Il film. Beh, anche perché si tende effettivamente a ragionare per compartimenti stagni, il film inizia proprio con un annuncio che sembra ah che bello ci sposiamo, invece ah che bello ci separiamo e ovviamente è un break emotivo che un po' separa un gruppo perché poi è questa anche la cosa interessante, vedere come le coppie poi alla fine diventino anche un po' il fulcro di un gruppo di amici, di un gruppo di persone. Creano un mondo che comunque ruota intorno a, diciamo, alcune coppie di solito e noi abbiamo cercato di raccontare il mondo che vivevamo in realtà dieci anni fa. Siamo partiti da lì, quando siamo arrivati a Roma abbiamo cominciato a cercare il nostro posto nel mondo appunto con una serie di amici con i quali siamo cresciuti poi professionalmente e umanamente in questi anni e tutto è nato lì, anche la prima stesura della sceneggiatura, della storia e la casa rappresenta un po' questo mondo quindi la vendita della casa diventa proprio, quando si dice veramente si spezza il cuore, si è proprio spezzato un mondo e tutti sono affezionati, tutti gli amici erano affezionati a questa cosa che dava comunque sicurezza in qualche modo, no? Anche perché diventa un po' la casa di tutti quanti, sembra che l'abbiate cercata effettivamente tutti insieme c'è una delle battute di Libero di Rienzo che appunto dice, dopo aver passato semestri che mi ha terrorizzato perché pure io sto cercando casa, quindi capisco assolutamente... A Milano, non Milano! In Italia si cerca casa, perché il problema è trovarla. Esatto, esatto. Il film si chiama Una relazione, ma poi in realtà alla fine è la storia di una separazione e mi piace che riflette anche sul concetto di, prima di renderci conto di quanto siamo uniti a una persona effettivamente forse dobbiamo perderla, ce ne accorgiamo sempre un po' tardi. Ma guarda, in realtà è vero, ci riflettevamo prima con Guido, che questa cosa avviene anche in marriage story. In realtà è la storia di un divorzio e si chiama la storia di un matrimonio. Ma in realtà c'è anche scene di un matrimonio che riflette anche su questa domanda. Perché secondo me questa storia dice com'è la relazione a partire da come si separano. Tu puoi capire in uno specchio riflesso quello che era la relazione, grazie, attraverso il modo in cui finisce. E questo, poi la chimica fra loro due ha generato la possibilità di raccontare quello che non era scritto, cioè la storia d'amore. Della storia d'amore up c'è un momento, sei felice o non sei felice, quella cosa che si vede all'inizio e poi torna una volta. Tutto il resto è la gestione del dolo, la gestione della separazione. Però attraverso questo credo che si definiscano i due personaggi e la loro storia d'amore. Credo che, vabbè questo, non voglio ridurlo, dilungarmi. Sì, parlare di sradicamento e riradicamento in qualche maniera del film, è la cosa più, è come se avessimo bisogno di certe radici, ma il nostro sistema in qualche maniera ci guida, ci dice, forse è meglio senza averne, è una cosa quasi impossibile, no? E quindi il conflitto fra questa realtà e questa realtà. Non so più. Poi loro sono in realtà trapiantati a Roma, quindi hanno già vissuto uno sradicamento, quindi si sono legati ancora di più per loro perché si sono spostati e gli amici anche, quindi è insomma quell'intreccio di radici sia di famiglia che di persone che poi vivono con te per scelta. Ma poi sai una cosa? Le separazioni nei film sono spesso un momento, una cesura, no? Certo, giusto. Trovo lui con un'altra, entro e è finita la storia e quindi poi c'è tutto quello che accadrà dopo. Sono degli turning point che servono a raccontare un'altra storia. Ma invece tutti noi abbiamo visto le separazioni, le separazioni sono un processo doloroso, complicato, lungo, pieno di avanti e indietro, momenti, cadute, ascesa. È quasi un lutto, c'è che effettivamente... Fisicamente è un lutto, è tipo la secondo dolore più grande... Dopo il traslopo. Dopo il traslopo. La vista, stavo pensando in questo. E qua ne abbiamo tutti e due, pensa. Però, insomma, è vero che invece concentrare l'attenzione su quello ti dà l'occasione di raccontare una cosa che poi... Sono anche dei momenti di estremo romanticismo che poi diventi proprio... Cioè ti concedi l'assenza di limiti esattamente come durante l'innamoramento, per cui ti butti a terra, piangi, ingrassi, dimagrisci, ti sbronzi, fai le peggio cose esattamente come quando ti innamori, solo che è al contrario. Beh, da questo punto di vista mi ha anche un po' ricordato il Kramer vs. Kramer, perché è anche poi un di staccarsi, odiarsi a vicenda, poi ritrovarsi, ma soprattutto trovare se stessi, che è uno di quei topos spesso approfonditi poi all'interno del cinema. Sì, ma l'idea però è quella di togliere la componente dell'odio, della rabbia come fondante per una separazione. Dice, per separarsi da qualcuno devo improvvisamente rivedere, addirittura riscrivere il passato, per giustificare il fatto che non lo voglio più, anche per non sentirmi un cretino e aver passato gli ultimi X anni con una persona. Quindi spesso si tende a mistificare anche il passato. Invece l'idea è tutto bello, è cambiato. Come facciamo a ricordarci che è bello continuare a fare in modo che lo sia? Ovviamente non è un passaggio immediato, è un percorso che ha naturalmente anche delle cose molto dolorose, però è esattamente la tenuta di questa cura che forse fa un po' la differenza in questa modalità di raccontare una separazione, credo. Grazie.